Se l'ho dato Gesù Cristo, sempre se l'ho dato. Cari fratelli e sorelle, come vedete mi trovo a Pompei, davanti al santuario della nostra Madre Celeste, la Madonna del Rosario. E proprio qui a Pompei, come ogni anno, tanti tanti pellegrini che vogliono arrivare vicino, immagine perché, come sapete, tre volte all'anno questo quadro miracoloso, tanti possono onorare vicino, pregando, qualcuno tocca con, diciamo, farsoletto, prega. Ma anche io avevo vicino questa immagine di Saint Charbel, dovevo esserci anche qui, in questo momento, perché proprio Saint Charbel, ho chiesto per baciare, diciamo, la Madre, le sue mani, i suoi piedi, ha affidato tanto tutti voi, ma specialmente quelli che incontro nella mia vita sacerdotale, ma poi anche di tutti voi che siete nella nostra famiglia, di casa di preghiera di Saint Charbel, certamente tutto il giorno erano qui le sante messe, ma sono 143 anni da quando il quadro della Madonna del Rosario sta qui, in questo luogo. Sono molto felice, anche passando stasera, vicino immagine, qualcuno ha gridato padriare, in giro vedo le persone anche da Graniano, perché a Graniano, come ogni mese, giovedì prossimo, abbiamo il nostro mensile incontro della preghiera, perché ci sono catechesi, c'è anche la Santa Messa, adorazione, e poi benedizione con olio di Saint Charbel. Allora, di nuovo, già da Pompei vi invito, giovedì 15 novembre, a Chiesa di San Marco, a Graniano, di partecipare al nostro incontro di preghiera, specialmente la Santa Messa alle ore 18. Allora, tutto questo da Pompei vi saluto tanto, restiamo tutti nella preghiera, veramente è molto, molto bello vedere tante, tante persone che vanno proprio tante volte, ore e ore, sono in piedi, aspettare il momento di avvicinarsi vicino immagine della Madonna. Grazie, Signore vi benedica, sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.